Allora, buongiorno a tutti, iniziamo questo incontro, questa conferenza stampa per presentare i dati del bando che è appena chiuso riguardo la ricerca e sviluppo per innovare le marche, dati molto interessanti che stimolano anche delle riflessioni più generali rispetto alla situazione, anche quadro economico e le prospettive dell'ecosistema imprenditoriale della nostra regione. Ne approfittiamo anche per tracciare velocissimamente un primo bilancio di tutto ciò che dal punto di vista anche dei bandi, che sapete che è lo strumento principale che noi utilizziamo per sostenere tutto il sistema, grazie soprattutto alle tante risorse che siamo chiamati a gestire, tante risorse che gestiamo anche perché purtroppo lo dico, ma infatti nei vari incontri sottolineo questo aspetto che sembrerebbe quasi contraddittorio, ma noi sul PORFESR abbiamo una disponibilità elevata perché purtroppo siamo stati recentemente classificati come regione in transizione, quindi significa appunto che una regione ha bisogno di supporto strategico, economico, finanziario per mettere più risorse disponibili alle nostre aziende e soprattutto per quindi ritornare a un rating che maggiormente ci appartiene anche per storia e tradizione, che non è certamente quello di una regione con delle difficoltà da questo punto di vista. Premetto, tanto per essere chiari, ma anche se so che non ce n'è bisogno, ma che ovviamente questa situazione è stata ereditata, nel senso che non è che questa transizione è arrivata in questi ultimi due anni, quindi con la nuova programmazione ovviamente hanno stabilito di fatto questa condizione. Quindi la speranza per assurdo che nella prossima programmazione dei fondi europei, quella dal 27 in poi, ci saranno meno risorse disponibili perché significherebbe che lo stato di salute della nostra regione è migliorato. Quindi dicevo, tanti bandi aperti, in modo particolare noi avevamo un'attenzione particolare su questo bando di cui parliamo oggi. Io insieme a me ringrazio e saluto la nostra direttrice del Dipartimento Sviluppo Economico che tra l'altro ha assunto questo nuovo ruolo importante perché di fatto è il punto di riferimento massimo su quanto riguarda lo sviluppo economico al punto di vista amministrativo della nostra regione, ma lei già questo bando lo aveva trattato nella sua funzione di dirigente proprio della specifica, dell'area della ricerca, dello sviluppo e della internazionalizzazione. Quindi dicevo, questo bando è importante perché è in assoluto il bando dove la regione Marche ha stanziato più risorse per le imprese. Parliamo di 45 milioni di euro che all'inizio sembravano quasi una scommessa perché appunto per la elevata consistenza di risorse, però ci siamo accorti invece non so se felicemente o meno, ma felicemente in un certo senso sì, che questa cifra stanziata invece è stata abbondantemente superata dai progetti presentati e dalle richieste delle varie imprese. Quindi a fronte di, la prima notizia è questa, a fronte dello stanziamento di 45 milioni di euro praticamente c'è stata una richiesta, sommate le progetti presentati, di ben 110 milioni di euro, quindi più del doppio della disponibilità. con, siccome sapete che è una compartecipazione modulata, variabile, ha di fatto sviluppa, quindi questi 110 milioni richiesti sviluppano investimenti per 190 milioni di euro. Quindi in pratica se noi dovessimo dare seguito alle richieste, a tutte le richieste pervenute, nei prossimi due anni la regione Marche vedrà un investimento tra risorse europee che è anche parzialmente regionali perché c'è un accollo del 15% da parte della regione e investimenti privati di quasi 200 milioni di euro solamente sulla ricerca. Credo che, lo dico senza paura di essere smentito, che oltre a essere un record assoluto per la regione Marche rappresenta una delle realtà più importanti da questo punto di vista dell'intera Italia. Noi sappiamo allo stato attuale altre regioni che hanno attivato lo stesso bando e non hanno avuto pari, diciamo, attenzione. Io credo che ovviamente le ragioni siano da ricercare, come sempre capita, in una serie di circostanze concomitanti. Certamente, questo lo voglio sottolineare, c'è stato un metodo che è partito dalla condivisione più totale di questo bando e quindi di questa progettualità. Mi spiego meglio, non è qualcosa che è calato dall'alto. Ci sono stati confronti costanti, continui con il territorio da parte della amministrazione, dei funzionari, della dottoressa Bussoletti, dei suoi collaboratori, del sottoscritto ovviamente per quanto di mia competenza di indirizzo politico con tutte le organizzazioni sociali, organizzazioni di categoria e le imprese stesse facendo anche degli incontri sul territorio. Io credo, non so quante riunioni stiamo facendo settimanalmente proprio per far conoscere, informare e condividere le potenzialità di questi strumenti. Allora, io sono certo che questo metodo abbia realmente dato un impulso fondamentale proprio alla volontà di partecipazione da parte delle imprese che da un lato si sono viste giustamente protagoniste perché io voglio ribadirlo. Quello che stiamo facendo con questo dipartimento assessorato è utilizzare questi fondi proprio per sostenere in maniera chiara le imprese. Cioè questi sono fondi che sono per le imprese. Quindi non c'è da parte nostra, ci deve essere nelle ovviamente rispetto delle norme, rispetto scontato di qualsiasi forma di legalità, ma è ovvio, ma ovviamente delle norme, delle direttive, anche certe volte stringenti da parte dell'Europa. Però noi abbiamo la consapevolezza che quello che stiamo facendo è sostanzialmente soprattutto sostenere le imprese. Perché se sosteniamo le imprese nel loro percorso di sviluppo, di crescita, soprattutto verso uno stato di competitività importante, di fatto trainiamo tutta la regione, tutto il territorio, un'economia che soprattutto si deve, diciamo, sostenere sulla forza e la vitalità delle imprese. Quindi questo è un concetto fondamentale, lo ribadisco, perché noi siamo proprio qui per questo. Da tramite, una funzione da tramite, mettiamo ordine, ovviamente abbiamo una visione, faremo delle scelte, abbiamo fatto delle scelte. Nel bando successivo, quello dell'innovazione, che stiamo per aprire fra pochi giorni, abbiamo anche dato delle priorità rispetto a dei segmenti, dei comparti rispetto agli altri. Perché comunque vogliamo, abbiamo anche noi, da ovviamente una nostra visione, che va però in questo caso, anche in questo caso, condivisa. Faccio un esempio, sul bando ricerca, dove hanno partecipato, vi do altri numeri, circa 254, sono stati 254 i progetti presentati, per un numero totale di imprese di 433, perché le imprese hanno partecipato, potevano partecipare anche insieme ad altre, quindi sia autonomamente che in forma aggregata. Quindi, di fatto, le imprese 433, che sono tante imprese, tra la grande impresa, media impresa e piccola impresa, tra queste anche le start-up innovative, è l'unico bando dove la grande impresa può partecipare, questo sulla ricerca, perché altrimenti sono solo bandi rivolti, questi del Port PES, alle PMI, alle piccole e medie imprese, poteva partecipare in forma, appunto, aggregata. Quindi, dicevo, una importante partecipazione, e tra le cose che mi piace sottolineare, noi abbiamo voluto dare un indirizzo preciso come assessorato, come dipartimento, quello di sostenere il più possibile delle azioni per il benessere del lavoratore, il welfare aziendale. Questo è uno degli obiettivi principali, più importanti che ci siamo dati come assessorato, nel senso che tutti i bandi che noi emaniamo vanno nel senso anche, ovviamente non solo, di favorire tutte quelle azioni di benessere del lavoratore nell'azienda, attraverso, diciamo, quegli strumenti che sono sia all'interno del contratto nazionale, ma sia anche ulteriori strumenti che possono essere utilizzati, appunto, per il welfare aziendale. Perché lo facciamo? Oltre ad essere un concetto giusto, perché riteniamo che anche dal punto di vista dignità della persona, del lavoratore, è fondamentale che si trovi nelle condizioni migliori, anche nell'ambiente di lavoro, ma noi siamo convinti che chi lavora in modo, diciamo, con benessere, chi lavora bene, chi sta bene nel proprio ambiente di lavoro è anche più produttivo. Quindi, alla fine, diciamo, ci sono dei vantaggi complessivi anche proprio per l'aumento della produttività stessa delle aziende, nel momento in cui ci sia una, chiamiamola, tra virgolette, complicità e un senso di appartenenza tra il lavoratore e l'azienda stessa. Questo era per fare un esempio. Quindi noi diamo, ovviamente, anche delle indicazioni, perché crediamo in alcune, diciamo, soluzioni, come crediamo molto nell'innovazione e nella ricerca, dove, appunto, ci sono degli aspetti fondamentali. Crediamo molto nel concetto dell'utilizzo di tutti gli strumenti relativi anche alla digitalizzazione, ovvero all'utilizzo delle nuove tecnologie e a tutto ciò che è anche dal punto di vista ambientale sostenibile, sia nell'utilizzo dei materiali che proprio nei processi di mitigazione dell'impatto ambientale e dell'azione delle aziende sull'ambiente stesso. Quindi ci muoviamo lungo queste direttrici. Noi per il momento abbiamo su questo bando, come dicevo, 45 milioni di euro, che ovviamente una commissione analizzerà e valierà tutte le proposte arrivate. Abbiamo circa 10 o 12 milioni di riserva che potremmo utilizzare per, anzi, che utilizzeremo certamente, per questo ce lo dirà la Stefania, la dottoressa Bussoletti, che utilizzeremo per fare uno scorrimento di graduatoria, perché come vi dicevo, a fronte di 45 milioni di euro disponibili sono arrivate domande di per 110 milioni di euro. Quindi arriveremo a 57 milioni. È ovvio che ci sarà anche una selezione naturale, qualche progetto, probabilmente, come spesso capita, purtroppo, ma è naturale, non supererà magari dei controlli, ci saranno dei vizi formali, qualcosa probabilmente recupereremo, però, insomma, ecco, sono somme importanti. Il nostro obiettivo è quello di dare più risposte possibili, perché crediamo veramente in questo progetto. Termino dicendo che nel frattempo sono aperti altri bandi che sono praticamente in chiusura. uno chiude oggi addirittura, che è il sostegno alle PMI artigiane a modernamento tecnologico, quindi sull'artigianato, 9 milioni e 6, un altro scade fra un paio di settimane sulle PMI, in questo caso legate a modernamenti tecnologici nell'industria. Apriremo a breve, e lo presenteremo fra qualche giorno, il bando di oltre 2 milioni per le cooperative. Faremo un bando a breve di un milione di euro per l'artigianato tipico e tradizionale. Poi partiremo anche, ve le dico un po' così, a ripetizione, però per farvi capire un po' anche l'impatto che stiamo creando sulle imprese marchigiane. Partiremo anche con un altro strumento fondamentale, che ci ha richiesto tantissimo, e proprio che parte, e questo anche qui lo voglio sottolineare, da un confronto serrato proprio con le imprese e con le associazioni di categoria, che sono gli strumenti di credito, gli strumenti finanziari per l'impresa. Abbiamo un pacchetto di 91 milioni di euro. Voi considerate che quando lavoriamo e riusciamo ad attivare, ovviamente con diversi interventi, in linea di massima ci muoveremo tra l'abbattimento dei tassi di interesse e le garanzie appunto per le imprese. Ci sposteremo tra queste due, misceleremo questi due tipi di intervento, che sostanzialmente generano spesso, a seconda dei casi, ma cinque volte se non di più, gli investimenti stanziati. Quindi anche qui genereremo sul territorio, probabilmente, lo dico senza paura di sbagliarmi, tra i 4 e i 500 milioni di euro di risorse sul territorio. Poi, a breve, come vi dicevo, ci sarà il nuovo bando di 28 milioni di euro sull'innovazione. Abbiamo già finanziato, recentemente abbiamo rifinanziato quello sulla digitalizzazione e riorientamento delle imprese. Poi siamo pronti anche per spostarci sul campo delle start-up innovative, dell'internazionalizzazione, che è un altro settore che in qualche modo ci piace, ci piace sostenere anche le start-up innovative. La Regione Marche, il rapporto agli abitanti, è la prima regione in Italia, bisogna sottolinearle queste cose. Sta anche a significare una grande vitalità da parte dei più giovani, perché le start-up innovative sostanzialmente sono giovani che si mettono in discussione, alla prova, proprio per cercare di, con nuove idee particolari innovative, trovare un dialogo anche con le imprese e cercare nuove, nuove veramente forme di idee imprenditoriali. E devo dire, e qui secondo me è una linea, un filo chiaro che la Regione Marche per qualche motivo, ma poi lo studieremo un giorno, perché qualche idea ce l'ho, però dopo qua andiamo fuori, è che abbiamo questa veramente capacità, questa creatività dei singoli che poi si declina anche in tante piccole aziende, un microsistema che però è fortissimo soprattutto sulla qualità, sul saper fare, su una certa attenzione proprio anche a delle idee, a dei progetti. Quindi noi dovremo lavorare, perché qui entriamo anche nel campo delle competenze, che anche se non noi lo gestiamo direttamente, perché come finanziamenti il singolo, diciamo, va più sulla FSE, quindi su un'altra misura di finanziamento, però è strettamente connessa alle imprese, perché l'impresa si regge, se c'è, diciamo, si regge sull'uomo, la donna, che sono alla base dell'impresa e soprattutto sulle competenze, che è un qualcosa che tra l'altro ci appartiene e dovremo in tutti i modi cercare di tutelare, soprattutto nei giovani. Quindi dicevo, altri interventi, vado a finire, perché veramente le cose sarebbero tantissime, anche sul settore energetico, stiamo facendo veramente, proponendo tanti bandi, ne abbiamo chiuso adesso uno di 14 milioni di euro sull'idrogeno, stiamo per le imprese, stiamo per aprirne uno di 29 milioni, 24 milioni, scusate, e ci e mezzo proprio per l'efficientamento e il miglioramento energetico nelle imprese. Visti i costi, visti le materie prime, i costi energetici, è fondamentale. Scusate, mi sono un po' dilungato, però ho approfittato di questo momento per fare anche un quadro generale, quindi c'è grande soddisfazione, siamo tra le regioni in Italia e quando lo dico mi fa piacere perché noi siamo una regione di un milione e mezzo di abitanti, non ce lo dobbiamo mai scordare, che siamo tra le regioni in assoluto più piccole dal punto di vista numerico, però proprio anche in assoluto siamo quelle che in questo momento e io ringrazio in primis la dottoressa Bussoletti, ci stiamo muovendo su tutto il sistema dei bandi e dei finanziamenti per FESR come una grande regione. Cioè in questo momento non c'è assolutamente alcuna differenza, ripeto lo dico, sfidando anche i dati a disposizione tra una regione Marche e una regione Lombardia e questo insomma ci fa pensare. Ok? Grazie. Volevo solo aggiungere che rispetto ai dati già detti dall'assessore secondo me è anche interessante evidenziare che delle 433 imprese che hanno fatto domanda 65 sono imprese che non hanno la sede operativa nella regione che invece intendono proprio aprire una sede operativa nella regione Marche quindi anche il ruolo che la ricerca e lo sviluppo sperimentale hanno nell'attrarre investimenti nel nostro territorio e l'attenzione quindi di imprese che sono localizzate fuori della nostra regione che hanno visto questa opportunità e che quindi qualora dovessero ricevere il finanziamento apriranno poi la sede operativa nella regione. Altro aspetto importante è stato quello di aver favorito una ricerca che sia fattibile anche dalle imprese non solo da quelle strutturate ma anche da quelle un po' più piccole che fanno fatica poi comunque a cimentarsi con progetti di ricerca e sviluppo sperimentale e invece le domande pervenute dalle piccole imprese sono state 280 quindi sono imprese che hanno capito che è importante investire su questi temi per poter poi essere innovative e poter essere quindi anche competitive sui mercati nazionali e internazionali e di queste 280 piccole imprese 39 sono delle start up innovative e quindi anche il fatto di poter realizzare delle progettualità adatte anche per imprese appunto un po' più piccole l'importanza poi dell'ecosistema in generale perché il bando andava a favorire anche i legami le relazioni le partnership che possono nascere all'interno della regione in modo tale che vengano valorizzate anche le collaborazioni che derivano ad esempio con le università regionali con i centri di trasferimento tecnologico con i digital innovation hub sempre regionali e con le start up innovative che ritornano quindi in un ruolo in questo caso di fornitrici in quanto in grado poi di contaminare positivamente in modo innovativo i sistemi produttivi martigiani e infine volevo dire che la regione è già attiva nella sta già istruendo le domande che sono pervenute e abbiamo già individuato un comitato di valutazione che è composto da esperti che hanno una esperienza di ricerca e sviluppo pluriennale e che derivano dagli albi del MIUR e dall'albo dei valutatori della commissione europea e che sapranno sicuramente selezionare le progettualità più qualificate per ottenere il contributo tutto nell'ottica di andare velocemente poi all'approvazione delle graduatorie cercando di rispettare compatibilmente con tutte queste domande pervenute le tempistiche indicate nel bando che sono di tre mesi dalla scadenza della presentazione delle domande se ci sono se ci sono delle domande di qualsiasi genere ovviamente attinenti all'argomento bene siamo stati chiari credo abbastanza perfetto benissimo allora vi diamo appuntamento a martedì 7 che ci sarà una presentazione del bando quello a cui facevo riferimento sulle cooperative del bando che praticamente si sostegna le piccole e medie imprese cooperative per investimenti tecnologico tecnologici e creazione di nuove unità produttive grazie